Gaia Cascino e Davide Cresta si sono lasciati. Ti sei lasciato? Risponde un sonoro sì. Si è parlato di un tradimento shock. Mamma, lui non è come gli altri, lui è diverso. Cosa è successo? Gaia ci vuole forse raccontare di un tradimento? Siamo di fronte ad una storia di corna. Si vede Davide Cresta con un'altra ragazza fuori da una discoteca. È Pasqua, quindi la domanda è qual è il vostro uovo di Pasqua che scarterete? Io già lo sapete, cioè l'uovo Kinder rigorosamente delle principesse. Come beh? Ciao scavati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al collegio 6. Gaia Cascino e Davide Cresta si sono lasciati. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche e radio che pubblico tutti i giorni ho quasi qui sul mio canale. Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo del collegio. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio. Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, finalmente, dopo giorni, mesi, anni, torniamo a parlare del collegio. Oggi un video super super shock. Lo so, è Pasqua, quindi tantissimi auguri a tutti quanti voi che, insomma, festeggiate Pasqua. Tantissimi auguri anche a me, anche perché non vedo l'ora di mangiare a Pasquetta, soprattutto la grigliata. Cioè ragazzi, non c'è cosa più bella che... La braccia accesa! Comunque vabbè, a parte questo, ci tenevo anche, oltre a farvi gli auguri di una serenissima Pasqua, a voi e alle vostre famiglie, anche di fare una piccola parentesi. In questi giorni, come vi dicevo nei commenti qua su YouTube, non sono riuscito a star dietro a, insomma, rispondere come di solito faccio a tutti i commenti che ricevo sotto i miei video. Sono dei giorni un po' difficili, dei giorni, diciamo, non semplici, perché c'è mia mamma all'ospedale, non è nulla di... insomma, che non si può risolvere, ci vuole del tempo sicuramente, ci sarà anche un'operazione, quindi non riesco a stare molto dietro a tutto quello che, appunto, succede qua nei commenti su YouTube. Spero capiate, ovviamente, la situazione, insomma, incrociamo le dita e speriamo che tutto quanto vada bene. Quindi, se mi vedete un pochino più assente sui social o comunque qua su YouTube nel rispondervi, è per questo motivo. Detto questo, comunque, iniziamo il video di oggi, perché a grandissima richiesta torniamo a parlare di una delle coppie più discusse di questo collegio numero 6, diciamocelo. Quest'anno il collegio è stato, oltre che un po' sottotono, diciamo che non ci ha regalato grandissime emozioni a livello di coppie. In realtà, proprio qualche tempo fa, qualche mese fa, Gaia Cascino e Davide Cresta avevano annunciato l'inizio della loro storia d'amore, ed io, ovviamente, ve ne avevo parlato, perché era una coppia sciocca e se vi siete persi quel video ve lo lascio qui nella i di informazioni. Detto questo, perché oggi parliamo di Gaia Cascino e di Davide Cresta? Beh, perché sì, avete letto bene il titolo di questo video, tra i due qualcosa si è interrotto. Si è parlato di tante e tante cose e si è parlato anche di corna, di tradimenti. Nel video di oggi cercheremo di fare un attimo il punto della situazione. E il nostro racconto della storia d'amore tra Gaia Cascino e Davide Cresta inizia da qui, da questo video pubblicato proprio da Gaia Cascino. Lo vediamo, no? C'è la sua foto, lei scrive Mamma, lui non è come gli altri, lui è diverso. E questa frase, lui è diverso, viene ripetuta nel video. Però vediamo una Gaia diversa dal solito. Non è più la Gaia Cascino, insomma, del collegio 6, che ci diceva Mediamo Gaia, faccia barucchiera. No, non vediamo questo. Vediamo una Gaia molto provata, no? Lei è in lacrime, comunque molto triste. Quindi, in questo momento, la prima cosa che tutti quanti noi abbiamo pensato è questa ragazza si è lasciata. Non è più fidanzata, è singola, il cuore è spezzato. Questo è quello che chiunque sui social ha pensato, vedendo Gaia in lacrime. Ma non è tutto, perché proprio nei commenti di questo video vi volevo leggere, appunto, qualche cosa a parte le persone che mi hanno taggato molto gentilmente per farmi sapere che Gaia, insomma, aveva pubblicato questo video c'è chi dice Si sono lasciati, no, mi dispiace un botto no, Gaia, no, mi dispiace ma cosa è successo? Si è lasciata? E per rispondere a questa domanda dobbiamo andare avanti e lo facciamo sempre leggendo le stories che ha pubblicato Gaia in questi giorni e a distanza di qualche ora dalla pubblicazione di questo video Gaia sui social si lascia andare ad un racconto a cuore aperto infatti nelle sue stories leggiamo questo lei scrive Sarò inattiva per un breve tempo e poi non finisce qui perché scrive Il sonno non copre questo tipo di stanchezza non lo dimenticherò mai insomma, vediamo comunque Gaia a pezzi ha il cuore spezzato si fa vedere in lacrime sui social cosa che non succede quasi mai perché insomma, diciamocelo, no? Gaia Cascino è forse una delle più simpatiche collegiali di quest'anno e l'abbiamo sempre vista molto sorridente molto positiva qua sui social vederla così fa veramente tanto riflettere ci fa capire che Gaia non sta per niente passando un bellissimo momento anzi, penso che abbia pubblicato anche un altro TikTok in cui canta la canzone di Marco Vengoni che dice grazie per avermi fatto male non lo dimenticherò insomma, come ben capiamo Gaia sta vivendo un momento difficile a livello sentimentale i suoi TikTok ce lo dimostrano e se da una parte abbiamo Gaia Cascino che si fa vedere senza filtri sui social e in lacrime dall'altra parte anche Davide Cresta non è dei migliori mood qua sui social tant'è infatti che la prima foto che pubblica è questa un selfie, un cuore infranto lui in lacrime e quindi lo vediamo, no? da una parte Gaia in lacrime dall'altra Davide Cresta in lacrime qualcosa è successo tra i due forse c'è una rottura vera e propria e a togliere ogni dubbio da tutta questa situazione da tutte queste voci di corridoio sulla loro presunta rottura è proprio Davide che nelle stories di Instagram di fronte alla domanda ti sei lasciato risponde un sonoro sì pubblicando questo selfie insomma, è ufficiale lui e Gaia Cascino si sono lasciati ma c'è di più perché in questi giorni arrivati a un certo punto le persone sui social si sono chieste ma non è che forse Gaia è stata tradita perché ricordiamolo riguardiamo insieme questo video un video in cui Gaia dice lui è diverso non è come gli altri e poi ripete lui è diverso peccato però che forse qualcosa è successo e di fronte a queste parole tante persone hanno pensato che si trattasse di un tradimento di una mancanza di rispetto c'è un'altra ragazza in questa coppia cosa è successo? per rispondere a queste domande beh, dobbiamo andare innanzitutto con i piedi di piombo e capire veramente cosa è successo infatti in questi giorni a buttare ulteriore benzina sul fuoco è stato proprio un video pubblicato da Gaia Cascino che sulle note di una notissima canzone trap beh, diciamo che ha parlato di queste o meglio ha fatto molto spesso il gesto delle corna addirittura in un fotogramma che io ho screenshotato su Instagram Gaia scrive non parlo con tanto di emoji del clown quindi cosa è successo? Gaia ci vuole forse raccontare di un tradimento di una storia di corna? non è chiaro perché ovviamente questo è soltanto un video ma potrebbe celarsi qualcosa di più e di fronte a così tante accuse del tutto infamanti arrivati ad un certo punto tutti hanno parlato letteralmente tutti ma chi non l'ha ancora fatto è proprio lui Davide Cresta che in questi giorni si è beccato del traditore tante persone gli hanno detto insomma hai fatto hai fatto del male a Gaia Cascino ho letto tanti commenti negativi e che in realtà insomma parlano forse per partito preso lui in prima persona inizialmente risponde pubblicando una storia su Instagram che dice questo per tutti quelli che mi stanno insultando nei DM che giudicano la relazione che c'è stata tra me e Gaia solo tramite uno schermo non sapete un ca di ciò che c'è dietro quindi non potete essere in grado di dare un parere soggettivo alla situazione detto ciò se mi vedete felice nelle storie non vuol dire che io non tenga Gaia le voglio un mondo di bene e lei lo sa ci sarò sempre per lei per qualunque cosa e con queste parole Davide Cresta mette inizialmente a tacere queste voci di corridoio su un presunto tradimento ma non finisce qui perché ad un certo punto sempre sui suoi profili social credo che abbia fatto un mi pare un video su TikTok ecco dice questo quando porta così tanto rancore che le manda una foto di me fuori dalla discoteca dopo che io e Gaia ci siamo lasciati con una tipa quindi si parla di questa foto che adesso vi metto qui a schermo dove appunto si vede Davide Cresta con un'altra ragazza fuori da una discoteca e lui dice per farle credere quindi viene fatta tutta questa cosa forse sta parlando di un'altra ragazza di una sua ex fidanzata non è chiaro però è come se lui stesse parlando di un'altra ragazza che ha deciso di mandare una foto a Gaia Cascino per creare scompiglio e per far credere a questo tradimento questo è quello che credo di aver capito ma comunque lui scrive insomma quando porta rancore le manda la foto bla 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 per farle credere che si tratti di una foto di tanto tempo fa e di conseguenza che le avrei fatto le corna quindi insomma diciamo che di fronte a questo scatto rubato qualcuno ha detto ah ecco Davide ha veramente tradito Gaia e insomma ragazzi io credo che la verità la sappiano solo e soltanto loro se Davide ci dice qualcuno ha mandato questa foto a Gaia per farle credere chissà che cosa è perché in realtà porta rancore nei miei confronti e quindi forse ha deciso di mettere in crisi la mia la coppia no? quindi la coppia tra Davide e Gaia Cascino ovviamente queste sono tutte supposizioni ma quel che sappiamo è che in questi giorni i due si sono anche lanciati qualche frecciatina vi parlavo prima di questa storia in cui Gaia Cascino scrive non parlo con l'emoji del pagliaccio e allo stesso modo credo che anche Davide Crest abbia pubblicato vediamo se mi ricordo bene ecco un selfie in cui scrive il pagliacciume con tanto di emoji del clown insomma ragazzi siamo forse di fronte ad un amore che è finito in modo burrascoso con fake news notizie false foto che sono state mandate in maniera estemporanea quindi non è proprio come è stato raccontato non lo so ragazzi fatto sta che quello che di certo sappiamo è che una coppia del nostro collegio è scoppiata peccato perché Gaia Cascino e Davide Crest stavano bene secondo me insieme avevano questo modo di scherzare questo modo di parlare che insomma era abbastanza giocoso lei romanaccia lui siciliano insomma parlavano non lo so mi riempivano nel cuore quando quando vedevo i loro video e li sentivo parlare anche perché secondo me erano nello stesso mood purtroppo però siamo arrivati anche di fronte alla fine di questa relazione mi dispiace che si siano mandati qualche frecciatina ma mi auguro che magari privatamente riescano a trovare un punto d'incontro e soprattutto riescano a parlare per chiarirsi quantomeno per quello che è successo oppure no detto questo però adesso ragazzi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate il video può finire qui spero tanto che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video vero Mark vai saluta Mark vabbè ragazzi anche oggi noi ci abbiamo provato ciao ciao